Musica Buongiorno, sono Sabrina Bresciani, coordinatrice del progetto Bambini e Adulti Altamente Sensibili. Allora, l'alta sensibilità è una cosa normale, tre persone su dieci sono altamente sensibili, quindi sicuramente tanti degli ascoltatori si riconosceranno nella descrizione di questo tratto normale del temperamento, che porta a processare in maniera più profondita o più profonda tutti gli stimoli che noi riceviamo, quindi sia le cose che vediamo, che ascoltiamo anche al tatto. Questo porta un'attitudine a cogliere i dettagli, appunto a processare di più, ma anche e soprattutto i pericoli, e quindi a stare più attenti, ma allo stesso tempo anche a essere più sovrastimolati. Quindi questa sovrastimolazione porta a volte a esplodere, quindi avere un'intensità emotiva superiore rispetto alla media, che non vuol dire che sia sbagliata, però a volte le persone altamente sensibili si sentono dire se te la prendi per niente, non piangere, eccetera. In realtà questo, siccome sette persone su dieci hanno una sensibilità più bassa, nella loro percezione la persona altamente sensibile appunto se la prende per niente. In realtà la sensibilità è normale, tutti sono almeno un pochino sensibili, però dovremmo imparare che questa sensibilità va praticamente da zero a cento, diciamo, e quindi dovremmo anche imparare a rispettare chi ne ha di più. In particolare nelle scuole, con i bambini, quindi questo sarà il tema del progetto che noi presenteremo il 18 di maggio, che però poi continuerà, ecco, non è solo un convegno, ma continuerà nella zona di Lonato, Desenzano, Castiglione, Polpenazze. Abbiamo quattro associazioni coinvolte. È l'associazione Alice nel Paese della Meraviglia, che ha iniziato ad organizzare questi convegni già l'anno scorso. È l'associazione Colors, che io ho fondato, che è un'associazione di divulgazione scientifica. La piccola famiglia di Gesù, che è a Polpenazze, che è stata fondata da sua Daniela, e l'associazione Persone Altamente Sensibili Svizzera, con cui io già collaboravo su questi progetti, e insieme abbiamo creato, insieme anche ai miei studenti, io insegno all'università, abbiamo creato un Depliant che riassume in 12 pagine le caratteristiche dei bambini altamente sensibili e come possono essere gestiti. Quindi noi regaleremo questo Depliant, che gli ascoltatori tra l'altro possono già scaricare gratuitamente dal nostro sito, e appunto parleremo di che cos'è l'alta sensibilità e soprattutto come gestirla, perché a volte non è facile gestirsi o gestire dei bambini altamente sensibili, perché appunto sono abbastanza esplosivi, oppure implodono, nel senso che proprio per queste caratteristiche che loro hanno di sentirsi sopraffatti, magari non vogliono prendere parte ad alcune attività, per esempio andare a scuola in classi numerose, oppure fare degli sport o delle attività extrascolastiche dove ci sono magari tanti bambini, alcuni più grandi, eccetera. Quindi negli incontri parleremo anche di questo. Ma visto che siamo in radio, non so se possiamo magari iniziare a descrivere questo tratto attraverso proprio l'esperienza di cantanti famosi, come per esempio Alaris Morissette, pluripremiata cantante e cantautrice canadiese, che è proprio la testimonial del tratto dell'alta sensibilità, in particolare nel film Sensitive The Untold Story, che purtroppo non è disponibile in italiano, ma è il film che racconta, è un film documentario che racconta cos'è l'alta sensibilità, come è stata scoperta attraverso la risonanza magnetica, si è visto che il cervello delle persone altamente sensibili è proprio più attivo, cioè si attivano di più certe parti del cervello, in particolare l'amigdala e altre parti del cervello relative alla memoria e alla coscienza. Quindi è proprio scientificamente provato che le persone altamente sensibili sostanzialmente pensano di più. E questo non è necessariamente positivo, a volte, perché quando si pensa troppo poi si va magari un po' in lupo sui dettagli, oppure si diventa più tristi, perché appunto si prende coscienza di tutti i dettagli e di tutte le informazioni che a volte non sono positive. Quindi Alanis Morissette è proprio la rappresentante, diciamo, dell'alta sensibilità, però ci sono tantissimi altri artisti famosi, Oprah Winfrey, anche la multimilionaria americana famosa per il suo talk show, che è stato considerato il talk show più famoso di tutti i tempi. Anche lei si autoriconosce come persona altamente sensibile e varie volte ha parlato del tema nelle sue varie trasmissioni, nei suoi giornali, eccetera. Proprio lei aveva intervistato Michael Jackson, un'altra persona altamente sensibile. Quindi qui vediamo che ci sono tanti artisti altamente sensibili e questo non è un caso, perché per l'alta sensibilità porta a un'aumentata creatività, quindi è anche abbastanza normale che quasi tutti gli artisti si possano essere altamente sensibili. Da un altro lato vediamo anche il lato negativo di essere altamente sensibili. Per esempio, il DJ e il compositore svedese conosciuto come Avici, che lui di nome si chiamava Timma, è venuto a mancare prematuramente proprio per questi problemi di alti e bassi, di quanto si sente le difficoltà della vita. I suoi genitori poi hanno istituito a suo nome una fondazione che si occupa proprio di salute mentale, di psicoeducazione, di prevenzione della depressione e dei suicidi. Quindi qui cominciamo a vedere che è un tratto che ha aspetti sia molto positivi che molto negativi e proprio per questo va gestito. E per questo noi cerchiamo di divulgare la conoscenza di questo tratto perché conoscendo le caratteristiche e anche le conseguenze che sia positive che negative, una persona è già in una situazione migliore per poter sfruttare questo dono invece che subirlo. Molto volentieri, allora il progetto il progetto verrà presentato il 18 di maggio a Desenzano presso le scuole paritarie di erogazionisti in Vianemotta 54. Cominceremo alle 18.45 con un aperitivo. L'evento è gratuito, senza iscrizione. Chiederemo ovviamente la mascherina visto il periodo. Appunto cominceremo con un aperitivo di networking diciamo per conoscerci. La presentazione inizierà alle 19.15 in cui faremo la presentazione dalle quattro associazioni partner. Ci sarà anche l'assessore all'istruzione di Lonato, il dottor Nicola Bianchi da cui in realtà il progetto era partito perché era stato lui a invitarmi a parlare di questo tema l'anno scorso. Ci sarà anche il giornalista Luigi Cavalieri e alla presenza dei sindaci sia di Lonato che di Desenzano quindi del dottor Roberto Tardani e Guido Malinverno. Ci sarà anche l'irrigente scolastico dell'istituto comprensivo 1 di Desenzano Carlo Viara proprio perché il progetto continuerà anche nelle scuole e l'istituto comprensivo 1 di Desenzano sarà speriamo insomma verosimilmente la prima scuola italiana a fare sia formazione per gli insegnanti e anche la distribuzione a tappeto cioè a tutti i bambini e tutti gli insegnanti della scuola del Depliant i bambini altamente sensibili. Questo Depliant sarà regalato appunto anche durante la presentazione del 18 e chi fosse interessato ovviamente è benvenuto può venire a partecipare poi continueremo con altri due incontri sempre gratuiti e divulgativi ma in questo caso è necessaria l'iscrizione domenica 5 e domenica 12 giugno a Polpenazze in cui si parlerà più approfonditamente degli strumenti di come gestirsi in particolare la mindfulness quindi il 5 di giugno saremo con la dottoressa Nancy Deja che ci parlerà di mindfulness per bambini o come utilizzare la mindfulness con i bambini mentre il 12 di giugno ci sarà la dottoressa Evalena Felman che viene dalla Svizzera e ci parlerà o ci farà provare la mindfulness in questo caso per gli adulti e ci parlerà